Salva Puglia! Siamo ragazzi! Dai! Mi chiamo Gianluca Sbicca, sono il costumista di Un nemico del popolo. La mia terza collaborazione con il Popolizio in quanto regista, no, volendo anche la quarta, se contiamo anche Plutus. Il lavoro che stiamo facendo per questo spettacolo è, diciamo, un lento work in progress. Massimo ha un suo modo di costruire lo spettacolo e io cerco di seguirlo il più possibile con i costumi, lasciargli più libertà che posso e cercare di farlo il più a ridosso possibile della prima, perché è uno che, lavorando sullo spettacolo, cambia idea anche molto facilmente. Sto cercando di trovare dei materiali di repertorio, perché preferisce avere del materiale già vissuto, già usato per sua sensibilità, per il suo senso estetico. Sto cercando di dargli più possibilità per ogni personaggio perché ognuno dei suoi personaggi, diciamo, ha un carattere ben definito. Sono molto fan del costume drammaturgico, come si suol dire. Cioè, per me il costume deve essere un surplus al personaggio, cioè deve aiutarti a capire quel personaggio lì, non deve essere solo un decoro, perché allora sarei uno stilista, non un costruzio. Come si passi dal disegno al realizzato finale, cambia di volta in volta, in realtà. Per me è un piccolo shock vedere una cosa che sta nella mia testa, che metto giù sulla carta, e poi vederla in 3D, nello spazio, magari addosso anche a qualcuno, su un palcoscenico, io rimango sempre un po' così. Per me è un po' così. Per me è un po' così.